Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel, ovviamente il video di oggi è su Yotobi, nelle poche ore che sono passate dalla pubblicazione di questo primo episodio della nuova stagione dell'H.O. me l'avete già chiesto in diversi, ma state tranquilli, avevo già deciso che l'avrei fatto prima ancora che pubblicasse questo primo episodio, per il semplice fatto che sapevo che sarebbe stato rilevante. Prima di tutto perché Yotobi ha deciso, e sta continuando a fare da quando ha iniziato il discorso dell'H.O., di fare una scommessa al rialzo, cioè di investire sempre di più, e lo aveva pur detto, in questo prodotto e di cercare di aumentare il suo valore produttivo, cosa che secondo me si è vista parecchio e molto in positivo nell'episodio di ieri sera, perché sia da un punto di vista tecnico, e a me può interessare fino a un certo punto, ma è ben importante per quello che sta cercando di fare, sia da un punto di vista della scrittura, io ho visto un salto di qualità in avanti notevole, cioè l'ho trovato un video molto molto ben confezionato. Poi che cosa dire di questo video? In una frase potremmo dire che è un video in cui Yotobi rosica con stile, che è una cosa estremamente divertente a pensarci bene, però la prima cosa che dobbiamo chiederci è perché è rilevante. Innanzitutto bisogna essere appassionati di YouTube, e non è detto che voi lo siate, ma io personalmente a forza di fare YouTube sono diventato un appassionato di questa piattaforma. Mi interessa quello che succede su questa piattaforma che ritengo di gran lunga la piattaforma migliore che c'è su internet, di gran lunga il posto migliore per dei creatori di contenuti, senza nessun paragone davvero possibile, e quindi quello che fa Yotobi importa perché Yotobi è uno dei simboli di YouTube. Anzi, se consideriamo un'utenza che non usa YouTube per contenuti per bambini, e che non usa YouTube soltanto per contenuti di nicchia, ma ne fa anche un uso generalista, come faccio io, per l'intrattenimento, Yotobi forse è il simbolo di YouTube, e lo YouTube è più riconoscibile, quello che era gli albori e che è rimasto importante nel corso degli anni, e che per tantissimi è così amato e così seguito, nonostante sia oramai leggendaria la sua latitanza dalla piattaforma, che in effetti funziona perché ogni volta crea una grandissima attesa per l'ennesimo ritorno di Yotobi su YouTube. Quindi, secondo me c'è una rilevanza, ovviamente bisogna rispondere ad alcune premesse di interesse, che se non ci sono uno potrebbe anche domandarsi, ma Yotobi chi? Ok, e invece non è così, secondo me. Oltre a questo, dicevo, rosica con stile. Che cosa si vede in questo video di Yotobi? Si vede una cosa che abbiamo già discusso tante volte, che è un'incomprensione, forse un'incomprensione reciproca fra due generazioni differenti, che usano internet in modo differente. Yotobi parla della Ferragni, che è più o meno sua coetanea, quindi non dovremmo parlare di generazioni diverse, ma non parlo di generazioni diverse da un punto di vista anagrafico, ma da un punto di vista del linguaggio, e quindi Yotobi accena anche a Fedez, anche a Luis, indirettamente pur senza nominarlo, sono modi di usare internet molto molto diversi. Quello che secondo me appare in modo molto chiaro da quello che ha sempre portato Yotobi è una produzione youtubica che punta e che cerca e che sogna di arrivare alla migliore produzione televisiva. Mi sembra che nell'immaginario di Yotobi e di tutta quella generazione, che è anche la mia, ci sia molto forte un prodotto come poteva essere mai dire Goll, e quella che era la migliore comicità, la migliore satira televisiva degli anni 90 e a seguire, e ovviamente ci sono modelli americani di stand-up comedy e quant'altro. Questi modelli sono modelli forti da un punto di vista TV, anche se ovviamente ci sono su YouTube America dei referenti importanti. E quindi usare la piattaforma YouTube per amatorialmente costruire una confezione che sta in piedi al paragone con le migliori produzioni televisive, che in qualche modo le imita, ma le supera per quel discorso di schiettezza e di sensazione di vicinanza che comunque YouTube ti dà con il creator, è sicuramente nell'ottica di un prodotto come il Late Show che si sta evolvendo, ripeto, indipendentemente di quello che potremmo dire da un punto di vista definitorio. È un Late Show o non è un Late Show? Se Late Show è uno show comico fatto alla sera, è un Late Show. Se invece vogliamo le interviste brillanti con ospiti, come ci hanno abituato i Late Show americani, allora Yotobi lo deve ancora fare un Late Show, ma diciamo che ci sta prendendo per sfinimento e oramai glielo riconosciamo come tale. Dicevo, questo punto di riferimento, se ci pensate, lo trovate anche in Break in Italy. Break in Italy è un prodotto, e di fatto è un Late Show, è un prodotto che ha, ovviamente, Philip DeFranco e, ripeto, referenti americani di YouTube America, bla bla bla, comunque ha, in una produzione televisiva di qualità, qualità da un punto di vista del lavoro degli autori, sulle fonti, eccetera, eccetera, sicuramente un punto di riferimento forte. E Yotobi in questo senso fa la stessa cosa. Sono due canali che non sono di fatto, non hanno bisogno delle playlist, perché il canale è il format. E quindi, se Yotobi lo è diventato, in questo senso, Break in Italy direi che bene o male lo è sempre stato, sono due cornici uguali, format e canale sono la stessa cornice. Tu sai che genere di prodotto arriva, ti aspetti una certa regolarità, croce e delizia, per chi però fa da sé, ovviamente, e lo sarà anche per Yotobi, dal quale ovviamente ora ci aspetteremo una regolarità, magari che se ne batta della Champions o di Venom, che insomma non dovrebbe essere questo un problema. Ti aspetti una regolarità e ti aspetti quel genere di approccio che però, nel momento in cui ritorna ad essere il vlog dello YouTuber, potrebbe stridere. Attenzione, quindi è una scommessa a rialzo molto impegnativa. Se non ho capito male, è anche impegnativa da un punto di vista dell'investimento economico. Quindi è bello, per me, che amo moltissimo YouTube e le sue potenzialità, è bello vedere come in realtà Yotobi non lascia ma raddoppia, è una cosa figa per questa piattaforma, è un buon evento per la piattaforma, però diciamo del rosicare con stile. C'è un altro modo di usare internet e la comunicazione su internet, che è un modo che se ne batte totalmente della televisione e dei suoi modelli e che li bypassa, è un modo della generazione di quelli che hanno dieci anni in meno di Yotobi, della generazione dei Luis. C'è un modo di comunicare su internet che non esisterebbe senza internet, che non avrebbe nessun senso senza internet, ma che di questo se ne batte completamente perché internet è il top, perché internet è il posto dove si comunica, dove stanno le persone, la televisione è qualcosa di vetusto e superato e chi se ne frega della tv. Quindi sono due generazioni differenti che probabilmente non si comprendono tanto a vicenda. Non si comprendono non nel senso che non si capiscono da un punto di vista di non capisco quello che stai facendo, lo capiscono benissimo, ma della serie non capisco quello che stai facendo. Non capisco perché lo fai, come fa a funzionare. Quando Yotobi fa un po' la ricostruzione del successo di Chiara Ferragni, è tra le righe, spero di non essere io a forzare l'interpretazione, è tra le righe un ma guarda che roba che ha avuto successo, come cavolo è possibile? Poi quando dice allora vorrei anch'io essere palestrato per entrare nella scuderia di Fedez e lì c'è davvero un'incomprensione, nel senso che Luis, del quale parla, oramai in questa dicotomia Yotobi contro Luis oramai tornerà sempre, e Luis del quale parla è un indipendente esattamente come Yotobi. E questa è una cosa interessante che dimostra come due generazioni siano così diverse, ma è anche il loro bello, sia ben chiaro, per il fatto che in realtà Yotobi e Luis fanno YouTube in modi totalmente diversi ma con lo stesso piglio, cioè rimanere molto indipendenti per essere padroni del progetto a tutto tondo, che è una cosa che caratterizza Yotobi e che caratterizza Luis, e con una cura, secondo i loro gusti, piaceranno o non piaceranno, anche a seconda di quelli che sono i nostri ovviamente, una cura del prodotto perché risponda e li soddisfi prima ancora perché sia nazionale popolare, poi la cosa gli è riuscita tanto meglio. Quindi c'è questa frattura evidente, però diciamo che è interessante vedere la vecchia YouTube che continua ad evolversi. Quindi vecchio Yotobi, nuova YouTube. YouTube è cambiata, è nuova, sì molto, ma anche perché sono arrivati i Bressanini, cioè quella secondo me è la nuova YouTube più interessante. Ci sono tanti prodotti che iniziano ad avere qualità produttive a livello di budget paragonabile alla televisione, ma quello che a me interessa della nuova YouTube è che sempre di più personalità che hanno qualcosa da dire al di fuori di YouTube capiscono, vedi anche Montemagno, capiscono che questa è la piattaforma di riferimento e questa è la YouTube nuova che nel frattempo è nata, che mi interessa di più. Però è interessa a vecchio Yotobi? No, in realtà, perché la vecchia YouTube, o meglio la vecchia generazione di persone nel caso di Yotobi che sono state su YouTube da subito, ma comunque di persone che si sono formate con un immaginario diverso, continuano ad evolversi e quindi quel binario, se viene curato così, non è un binario che va a scadere nel, ma sì, modello mai dire gol, superato, strasuperato, ma chi se ne frega dell'H ora, mai internet se le divora queste cose, vedi un Conan O'Brien che in realtà internet la insegue, no? No, è una YouTube che dimostra di essere veramente il posto della creatività e se uno sa farla bene, sa comunicare bene e ci lavora sodo, può continuare a sviluppare un discorso che dovrebbe invecchiare, ma che in realtà rimane nuovo proprio perché è collocato nella piattaforma nuova. Questa è una bella, è una bella cosa, non lo so, sono molto contento e ovviamente molto curioso di vedere come si svilupperà la cosa, perché Yotobi è bravissimo a creare delle super super aspettative, poi bisogna vedere se saranno mantenute. Di sicuro hai già la sensazione che ora ci sarà l'appuntamento fisso, che quindi ora saremo tutti lì a vederlo e quindi ora tutte le settimane ci sarà un video di questa cura e di questa qualità, siamo passati di livello, vero? E quindi nulla. Queste sono le mie considerazioni per quanto riguarda la difficoltà di comprensione fra generazioni diverse, reciproca ma spesso dei vecchi rispetto ai giovani, stasera alle nove qui sul canale ci sarà una live decisamente su questo tema, molto molto sorprendente da un punto di vista degli ospiti, quindi vi invito a rimanere connessi. Per il resto ragazzuoli vi ringrazio per aver seguito, ditemi nei commenti che cosa pensate, non solo di quello che ho blaterato in questo video ma anche di quello che Yotobi rappresenta su questa piattaforma, secondo voi quali sono le vostre aspettative, cosa pensate che questo leccio possa essere e quali pensate che possono essere le potenzialità di questa piattaforma, che è una cosa che mi interessa. E nulla, e per il resto come al solito grazie e ci vediamo a un prossimo video.